Presidio dei lavoratori dei servizi cittadini di Aspe, cooperative sociali aderenti all'USB davanti a Palazzo D'Accursio a Bologna per protestare sulle condizioni di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Stamattina hanno chiesto un incontro all'assessore della sanità Barigazzi per sollevare alcune problematiche relative al salario, alla mancata stabilizzazione del personale e al monitoraggio delle procedure di prevenzione dei protocolli operativi.